L'associazione Torre Vesuro Pro Natura, l'associazione di protezione civile città di Torre del Greco, organizza un gazebo per il giorno 8 in occasione della festa della donna verso il lito Ravella in via litorale di Torre del Greco per effettuare una raccolta di materiali di primo intervento, primo soccorso e medi di necessità per i profumi dell'Urania. Tutti i cittadini che vogliono dare un contributo sono invitati a portare il giorno 8, a livello dalle 9 alle 13 in via litoranea, presso di Lidola Vera, farmici di prima pronto soccorso e di prima necessità ed altro. Vi aspettiamo tutti, l'evento viene fatto in collaborazione con la protezione civile regionale e tutto il materiale verrà inviato attraverso le SOPI, le sale operative regionali in Urania.